Sono felice di presentarti una bellissima casa nel cuore del quartiere Duomo Salerno, in uno dei palazzi storici più affascinanti della città, con splendidi archi in stile catalano ancora perfettamente conservati. L'appartamento al secondo piano ha una superficie di oltre 100 metri quadrati e per mostrarti tutte le sue potenzialità abbiamo creato un video render con un'ipotesi di progetto che ne valorizza ogni angolo. Il quartiere è tra i più vivaci di Salerno, con tanti locali alla moda e a due passi dal lungomare. Perfetto per chi vuole vivere a pieno la città.